Buongiorno Davind Lynch It's May 24 2022 It's a Tuesday in Naples A clear clear morning In this moment, very still right now 78.8 Fahrenheit around 26 Celsius And this means that it's a day Really 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 soft Like this and this video And also over because it seems Summer climated and spring climated But we are going Towards June and so This is normal As regards the video tools I don't know if I do it Ancora quello di ieri D'altro ieri da caricare per cui Nel caso ci sono quelli, questo di domani eventualmente Scala domani, credo Ma comunque eyes open if you are interested In the case Anyway As you and you all just see from the window Yes I think that it's a further new tempera Salirà Sono quasi sicuro che salirà Ovviamente Non siamo dei manchi su questo Come sempre ma vedremo però perché credo di sì Ma The really important thing with this atmosphere Is that Today We have Today We have Those Beautiful Those Beautiful Those Beautiful Those Beautiful Those Beautiful Blue skies and golden sunshine And I think All along the way Ovviamente qui all along the way Sempre qualche ora almeno Rispetto a voi intendo soprattutto amici americani Perché È un orario Come sapete ovviamente diverso Rispetto a dove vivete voi Sì Siamo di continuare così anche domani Tra l'altro due giorni fa Abbiamo avuto un trend di sette giorni consecutivi Interrotto solo da questi due giorni precedenti Con soul C'è lo voglio dire Siamo di continuare così Questo trend anche La settimana successiva A partire da ora Per cui Save this From the mythical wind With the orange Red Blue The water curtain And it's Green Roller shooter Behind me On the top Not visible Infactoring the shot And finally From my mythical keyboard Amadigix 640 IPG IPG 625 E E Great day In all the people Follow the channel Divorsi Un saluto A tutti And also I hope you will have a great breakfast Lo farò tra poco Il mio stomaco brontolo come sempre Non so se lo sentite Fra tutto spero vi possiate consolare Se il tempo Veste essere brutto Delle vostre parti rispetto a qui Non che non ci si consola sempre con la relazione Ma personalmente Quando il tempo più brutto mi consola ancora di più Tra l'altro in italiano le due parole Colazione Consolazione Fanno anche rima And today Also I have the black shirt Beautiful black shirt Of The Lynch I invite Invito a vedere anche Il mio video Secondo video più visto in questo momento Qui In cui mi pongo anche delle domande sulla camicia nera di Mr. Lynch Metto anche il link in descrizione I'll see you In i video tutti If I do it Anzi O in quello di ieri O dell'altro ieri Or tomorrow I'll see you I'll see you I'll see you